Lo Sporting a Solane spugna il Pallozzi di Sulmone e conquista tre punti importanti in chiave salvezza. La gara serviva proprio agli ospiti che riescono a scavalcare in classifica la Virtus Ortona salendo dal penultimo al terzo ultimo posto. La Sulmone Sofena affronta il match senza ambizioni di classifica ma non concede assolutamente nulla alla squadra di Ansivino che però crea i primi sussulti. Al quarto Staffa riceve Pallenari e prova a trafiggere Vergari. Due minuti dopo De Camillis scatta sul filo del fuorigioco e ci prova con un diagonale. All'ottavo si vede la Sulmonese con una conclusione di Luca del Conte. All'undicesimo lo Sporting a Solana fallisce clamorosamente il gol. Sugli sviluppi di un corner si porta alla conclusione di Giuseppe che manca la rete del possibile vantaggio grazie alla bravura di Vergari con gli ospiti che non riescono a finalizzare l'azione. Al quarto d'ora un pallonetto di Luca del Conte termina fuori e alla mezz'ora lo Sporting a Solana reclama in rigore. Dorazio prova a fermare Mainella che cade a terra ma l'arbitro Yeo Kumere della sezione dell'Aquila lo invita a rialzarsi. La prima frazione si chiude con uno spunto in avanti dei Biancorossi con Moro che prova il tocco in aria ma c'è la parata di Pietro Paolo. La ripresa si apre con altre proteste degli ospiti per un penalty quando Dorazio prova a fermare in aria staffa. Al tredicesimo Luca del Conte manda alle stelle al quarto d'ora esatto incursione di Sciala in aria che appoggia per Tirino ma il suo tiro termina fuori. Al ventunesimo fa il suo debutto in promozione il classe 99 della Sulmoneso Fena Cristian Gioca che entra al posto di Tirino. Lo Sporting a Solana trova il gol partita al ventiseiesimo su punizione. L'esperto Mattia Mainella si accorge subito della posizione distante dalla porta di Vergari ed insaccherete per lo 0-1 che si rivelerà decisivo. Alla mezz'ora Capuzzi in aria si vede parare il suo tiro da Vergari. Al trentaquattresimo dopo una punizione di Mainella manca il tocco sottoporta di Giuseppe. Due minuti dopo Zazzari impensierisce su punizione Pietro Paolo che respinge. Non accade più nulla con la truppa di Anzivino che porta a casa la fondamentale vittoria che vale molto in chiave play-out. Per la Sulmoneso Fena appuntamento a domenica 7 maggio per l'ultima di campionato al Pallozzi contro il Bucchianico per salutare la stagione e pensare a come affrontare la prossima.